Salve Architetto Siola, la prima domanda riguarda la costruzione collettiva della città, cosa significa per lei? Ma diciamo è un atteggiamento teorico nei confronti dell'architettura che tende a evidenziare per ogni progetto che si viene a proporre un rapporto profondo con quello che esiste prima del progetto, cercando di determinare fattori di continuità con il passato e cercando di stabilire insieme al passato le condizionamenti per chi viene a intervenire dopo di noi. In questo senso è una costruzione collettiva perché lega il passato, il presente e il futuro. Cito dal suo sito internet per chiederle, da quale architettura nasce la sua architettura? Ma diciamo la nostra architettura, il nostro gruppo è un'architettura che viene individuata e classificata nell'ambito dell'architettura razionalista, quindi come sempre l'architettura razionalista ha un rapporto organico con l'architettura classica e l'architettura del passato e tende a riproporre forme classiche e razionali, tenendo conto naturalmente della necessità che ogni progetto urbano risponda anche a delle funzioni specifiche, particolari. L'importanza della linea 6 nell'ambito del piano di trasporti della città di Napoli? Appunto, noi stiamo parlando di una stazione che deve essere una stazione, deve funzionare come tale, dentro una linea secondo me importante perché passa per una parte particolare della città che è tutta la zona di Chiaia, per molti aspetti lega fuori grotta attraverso Chiaia e finisce poi a Piazza Municipio, quindi una parte di grande rilievo proprio per quella parte della città che dovrebbe smettere di usare le macchine e dovrebbe invece utilizzare il trasporto pubblico. Quali sono gli elementi progettuali dai quali è partito? Cioè gli input che le sono stati dati dai committenti dai quali è partito il suo percorso progettuale. Ma io devo dire che dai committenti ho avuto assoluta libertà e assoluto rispetto per il mio lavoro, quindi non ho ricevuto input particolari, tranne il fatto che questo, come dicevo prima, per quanto complicato deve essere un edificio che funziona come una stazione metropolitana, quindi diciamo che deve avere delle caratteristiche funzionali precise alle quali non può derogare. Altrimenti il contesto nel quale è stata chiamata questa operazione è un contesto complicato perché in pratica noi è il nostro, è un progetto di un edificio di 25x25 metri di lato profondo 43 metri, tutto al buio, cioè tutto infilato nel terreno, che ha soltanto un pozzo di luce in alto. Quindi un edificio progettato in condizioni difficili, obiettivamente difficili, che è partito tenendo conto di tre fatti fondamentali. Uno, il fatto che questo edificio nel punto in cui si trova, cioè sotto all'altezza del ponte di Chiaia, realizza una condizione tipica della città di Napoli, che è una città che spesso incrocia piani diversi, come il piano della sanità, per esempio il ponte della sanità e il ponte di Chiaia. Questo è un punto in cui ci sono due parti della città completamente distinte, la parte di Monte di Dio e l'altra parte della parte di Chiaia. A questo edificio abbiamo rimandato anche il compito di raccordare queste due parti. Qui la prima parte dell'edificio, quella che lega la piazza di Santa Maria di Chiaia con la quota di via Chiaia, è una parte che è un edificio che attraverso un camminamento circolare accompagnato da botteghe e quant'altro, lega la zona di Monte di Dio alla zona di Chiaia. Alla zona di Chiaia si entra nella stazione propriamente detta con i tornelli e attraverso un cubo, anche qui infilato nel terreno, un cubo che prevede delle rampe sui quattro lati uguali, si scende alla quota del ferro, la quota della stazione. Quindi gli input quali sono? Da una parte unire parti diverse della città, dall'altra parte realizzare una stazione funzionante, in questo è importante che noi abbiamo studiato i due collegamenti, le tre uscite, una uscita è a Chiaia, un'altra uscita è sotto piazza Pribbiscito, sotto l'emiciclo della chiesa di Santo Francesco di Paoli e l'altra uscita è all'altezza della chiesa di Santa Caterina. Questo dà il terzo input che è quello di cominciare a trattare il sottosuolo napoletano, non solo per attraversarlo con i treni, ma anche per utilizzare tutte quelle cavità che ci sono, come sappiamo a Napoli, dovute alle cave Tuface o a quant'altro e che dovrebbero essere utilizzate, come nel caso delle grandi città, si pensi a Parigi, come possono essere utilizzate proprio come una città parallela. Quindi da una parte riutilizzo del sottosuolo, d'altra parte legare parti diverse, d'altra parte tenere conto di diffondere l'uso della stazione a più parti, queste sono le premesse urbane. C'è poi un tema architettonico propriamente detto, che noi volevamo utilizzare la straordinaria luce di questa città per immaginarci un edificio pure alto 43 metri, quindi un edificio di 13 piani, illuminato solo dall'alto, di immaginare che dall'alto arrivi una tale massa di luce che possa arrivare fin giù. In questo c'è il tema della cattura della luce e quindi di questa grande sfera di 20 metri, questa grande lente di 20 metri circa di diametro che cattura la luce a Piazza Santa Maria degli Angeli e la porta fino al binario. Questi sono i criteri più o meno che hanno informato la progettazione. Anche se lei in parte mi ha già risposto, mi può descrivere brevemente il percorso della stazione partendo da Piazza Santa Maria degli Angeli? Partendo da Santa Maria degli Angeli si entra in questo edificio, si percorre una rampa circolare, secondo il modello per esempio del Museo Guggenheim di Wright a New York, si scende quindi facendo questo camminamento che dà sul vuoto, che prende la luce all'alto e che sui lati ha botteghe, negozi eccetera. Si arriva seguendo questo cammino, si arriva alla cota di via Chiaia, alla cota di via Chiaia ci sono i tornelli per entrare nella zona controllata, quindi a quel punto entrano sia i cittadini che vengono da Chiaia, sia i cittadini che sono arrivati da su, entrano e cominciano a scendere, scendono altri 30 metri, circa 28 metri e scendono seguendo le pareti di questo cubo che continua a prendere luce dall'alto perché è vuoto. In questo cubo i quattro lati contengono le scale che portano, le scale mobili, le scale fisse che portano al piano del ferro. Un progetto come quello di una stazione della metropolitana è destinato a durare nel tempo. Quanto ha influito sulla scelta di materiali? Ha influito molto, prima di tutto perché qui c'è un grande sforzo di carattere statico e strutturale come ne puoi immaginare, che non è che si fa un buco di 40 metri di profondità al centro della città, così bisogna fare palificate e quant'altro, quindi tutto questo ha richiesto una grande attenzione per i materiali, noi abbiamo usato molti materiali, molto la pietra di rivestimento proprio per cercare di assicurarci quando più è possibile una buona tenuta tecnologica. Quali tipologie di pietre hai scelto? Ma questo, noi siamo ancora in una fase, noi siamo per affrontare il progetto esecutivo, la scelta di questi dettagli è demandata a questa parte che è appena cominciata. Una battuta per tranquillizzare i cittadini delle aree adiacenti alla stazione che sono un po' preoccupati per la statica degli edifici. Ma io non sono autorizzato a dare di questi giudizi sulla varietà o meno delle preoccupazioni, certo mi rendo conto che i grandi cantieri pongono sempre qualche problema, però poi mi pare che questa città si sia ampiamente adattata a questi cantieri. Ci può essere qualche preoccupazione specifica, ma quello che posso dire, al di là di competenze che non mi riguardano, è che per come si stanno realizzando queste opere a Napoli, da parte la metropolitana milanese e napoletana, mi pare che c'è la sala assolutamente tranquilli. Il rapporto tra l'architetto Siola e la città di Napoli, che significa per un architetto progettare un'importante opera pubblica nella città nella quale si vive? Beh, prima di tutto anche se ho 70 anni rappresenta un punto di novità, perché siccome nessuno è profeta in patria non mi hanno mai fatto fare un bel progetto su questa città, quindi ringrazio la metropolitana milanese di questa possibilità che mi è stata offerta, insomma, ci misureremo cercando di superare la prova. Lei è stato assessore al Comune e deputato della Repubblica. Un consiglio ai napoletani? Di avere pazienza, ma di svegliarsi e cominciare a parlare e a pretendere che la politica dia conto di quello che fa. Io la ringrazio, è stato molto colpito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.